Sono morti di fame e di freddo i cinque uomini e le tre donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza, che sono stati ritrovati giovedì sera dalla motovedetta della Guardia Costiera che ha effettuato il soccorso di un barcone a 42 miglia da Lampedusa, in Acque Maltesi. I migranti hanno raccontato ai mediatori culturali di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle tre di sabato scorso, con l'imbarcazione di sei metri dopo essere stati per mesi rinchiusi in una safe house. Ci sono anche due dispersi, secondo quanto raccontato, dei migranti soccorsi. I superstiti hanno riferito che sul barcone c'era una donna con il suo neonato di quattro mesi, che a caso del freddo è morto durante il viaggio e la madre, per disperazione, lo ha gettato in mare. Un uomo si è tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo, ma sarebbe annegato fra le onde. Anche la madre del piccolo è morta poche ore dopo aver gettato in acqua il suo bambino. Il suo cadavere, così come quello degli altri sette compagni di viaggio, è stato lasciato all'interno dello scafo. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla nuova tragedia del mare avvenuta a 42 miglia da Lampedusa. Le ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Sono quasi 200 i migranti sbarcati fra la notte e l'alba a Lampedusa, dopo che tre diversi barconi sono stati agganciati dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Rivolgo un appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto il Sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. Il governo non ci lasci da soli a gestire quest'immane tragedia. Aiutateci, in questo modo non riusciamo più a gestire.